Ultimo appuntamento del 2019 con la rubrica nutrizione e benessere curata dal dottore Andrea Ricci, biologo nutrizionista, che per questa ultima rubrica ci darà dei consigli sull'alimentazione durante le festività natalizie. Allora dottore, quali sono i consigli che diamo ai nostri telespettatori? Sì esatto, questo periodo natalizio mette un po' tutti in apprezzione, sia chi è a dieta e anche chi non lo è, proprio perché un po' per gli eccessi alimentari è facile poi ritrovarsi con un po' di chili in più, che possono essere tra i 2 e i 5 chili in media, vengono stimati. Ovviamente è giusto dire subito che è normale onorare le feste, soprattutto nei giorni festivi, che poi comunque se andiamo a vedere non sono poi così tanti, anche se siamo più che altro molto tartassati anche dalle pubblicità, di prodotti alimentari tipici del Natale che partono già molto prima e quindi ci spingono un po' anche ad assaggiare questo tipo di prodotti per un periodo più lungo. Chiaramente, come dicevamo, l'aspetto del cibo e dell'alimentazione nelle feste natalizie non è l'aspetto principale, dovrebbe essere soprattutto un periodo da trascorrere più in famiglia con gli affetti, però è giusto, come dicevamo, appunto onorare la tavola, facendo, mettendo in campo un po' qualche buon consiglio. quello innanzitutto di mantenere quelle che sono le buone abitudini, quindi anche i 5 pasti al giorno, proprio per non arrivare ai pasti principali con troppa fame, di preparare le pietanze sempre nelle giuste quantità in modo da evitare di trovare del cibo in più poi da dover comunque consumare nei giorni successivi, di fare delle scelte alimentari consapevoli, cioè acquistare e consumare dei prodotti magari che siano artigianali, quindi non dei prodotti industriali che più facilmente contengono ovviamente additivi, coloranti, conservanti, oppure per fare l'esempio classico di questo periodo, il pandoro, il panettone, quindi evitare quelli magari che contengono all'interno creme particolari, burro, creme al cioccolato, ma scegliere dei prodotti artigianali che ovviamente hanno una maggiore cura anche nella scelta delle materie prime, e nella preparazione. Altri consigli sono quindi sempre di bere comunque molta acqua, di aiutarsi anche a depurare l'organismo con delle tisane diuretiche depurative, di evitare il digiuno e comunque quando si accogge di aver esagerato in un determinato passo, cercare anche di bilanciare con i pasti precedenti o successivi, quindi cercare anche di organizzarsi durante queste feste e di riuscire a capire quali sono i giorni in cui si sgarrerà di più, perché comunque per quanto vogliamo regolare l'alimentazione, e la parola d'ordine è sempre la stessa, cioè moderazione nelle quantità, è chiaro che comunque in questi giorni si mangeranno delle cose diverse rispetto a quello in cui siamo abituati durante tutto l'anno, però anche concedendoci qualcosa in più dobbiamo fare attenzione, quindi soprattutto alle quantità e alla scelta di quello che acquistiamo e che consumiamo. Ricordando l'ultimo consiglio che è quello appunto che non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale. Cogliamo l'occasione ovviamente non solo per ringraziare tutti i telespettatori della rubrica che ci seguono sempre con affetto, con passione, ci fanno sentire la presenza attraverso le email, consigliandoci gli argomenti e mostrando l'apprezzamento per questa rubrica, e quindi facciamo anche a loro e a tutti quanti i migliori auguri di Buon Natale e di un felice anno nuovo.